Dopo tre sconfitte consecutive tra Eurolega e campionato, il banco si riscatta ed espugna Masnago 86-70. I campioni d'Italia passano in vantaggio nelle sfide storiche contro i Lombardi 9-8. Doppia festa per Brian Sacchetti alla presenza numero 200 in A con Sassari per la open job Metis, priva di Galloway, e il secondo stop interno su tre match. Molto positiva la partenza dei Sardi, che però perdono Barnado per infortunio, più 12 dopo 7 minuti con 22 punti scritti a referto. La reazione di Varese è affidata a Davis e Ukic, ventello in tandem a metà partita, parziale di 18 a 6 in 7 minuti e parità al tredicesimo. Due triple di Yates riportano la Dinamo sul più 8, più 11 all'intervallo lungo con 12 punti di Logan e 11 di Alexander. Nella ripresa la open job Metis rientra a meno 6 con un ottimo faillé. Logan non ci sta, 11 punti dell'esterno permettono al banco di salire sul più 13, 68 a 55 al trentesimo. Nella quarta frazione Sassari allunga, più 16 al trentacinquesimo, più 20 al trentanovesimo. 23 su 43 da 2, 11 su 26 da 3 e 9 palle perse per la squadra di Sacchetti, osannato dai suoi ex tifosi. 15 su 40, 8 su 22 e 18 palle perse per la open job Metis. 23 punti per Logan con 5 su 7 da oltre l'arco, 19 con 9 su 13 al tiro e 7 rimbalzi per Alexander. 12 e 6 assist per Haynes. Dall'altro lato 17 per Davis, 15 e 6 assist per Dukic. 14 con 3 su 3 dalla grandissima distanza e 10 palloni catturati per Fayette.